Un caro saluto da Francesco Samani e veniamo da questa nuova video lezione per il concorso scuola. In realtà queste video lezioni non sono utili solo per chi deve reparare il concorso, ma sono senz'altro utili a tutti gli insegnanti, tutti i docenti, a tutte le persone insomma che vogliono approfondire le metodologie didattiche. E come avrete già visto parliamo del concassage. Una tecnica, una metodologia è una metodologia didattica che ha la finalità di stimolare la creatività. Allora, devo proporre una introduzione a questa metodologia perché il forte impulso degli studi sulla creatività ha inizio dagli anni, dal 1950. Allora, studi sulla creatività, come data potete prendere il 1950. Perché precedentemente in realtà pochi ricercatori avevano percorso nuove strade, contrapponendo al pensiero logico le potenzialità dinamiche e produttive del pensiero creativo. Inoltre, questi studi sono sicuramente stati favoriti dalle nuove conoscenze sulla mente. Quindi si sono sviluppate ricerche per promuovere nella persona la scoperta delle proprie capacità creative. Allora, sicuramente mi viene in mente Guilford che nel 1950 pubblica un articolo creatività dinamiche e produttive del pensiero convergente, verticale, quindi quello logico-deduttivo, che aveva caratterizzato la ricerca scientifica del passato, individua un pensiero divergente. o laterale, ricorderete anche Edward De Bono, che è meno vincolato a schemi rigidi ed è in grado di produrre alternative. Un piano B. In seguito sono stati tanti ricercatori che hanno seguito le ricerche sulla creatività. Osborne Ballas Abbiamo prima citato De Bono Vi invito anche a leggere i suoi libri Ed è a questo punto importante anche provare a definire che cosa sia questa creatività per poi andare ad analizzare la tecnica che una delle tecniche che stimoli che possa stimolare la creatività il concassage che è descritta da Francesca Romana Gianandrea nel suo testo Creatività Forever Allora questa parola così importante creatività in realtà deriva dal latino e significa creazione creare qualcosa di nuovo però se andiamo ad analizzare l'etimologia della parola significa anche crescita sviluppo trarre dal nulla inoltre andiamo a vedere le caratteristiche della creatività essa sicuramente è legata al concetto di libertà al concetto di originalità al concetto di intuizione quindi è un concetto la creatività è un concetto pervasivo che può essere adottato nei più disparati campi di attività dell'essere umano è anche un modo di vedere le cose di sentire il mondo è un'attitudine a rompere gli schemi la creatività è progettare Eric Fromm l'identificava come la capacità di vedere e rispondere poi ci sono tanti tanti tentativi di definire la creatività da mei Gibran anche in Galimberti ricordo quando disse è un carattere saliente del comportamento umano particolarmente evidente in alcuni individui capaci di riconoscere tra pensiero ed oggetti nuove connessioni che portano a innovazioni e cambiamenti allora a questo punto dato che abbiamo gettato le premesse per parlare del concassage abbiamo detto riprendiamo il discorso è una metodologia didattica stimola la creatività è una parola francese che possiamo tradurre in italiano con frantumazione quindi si esamina la problematica fino a cercare di risolverla da tanti punti di vista diversi ed insoliti è legata alla ricercatrice Francesca Romana Gianandrea e le stesse ne dà la descrizione vi è l'animatore in questo caso l'insegnante introduce la problematica il problema di risolvere o l'idea da generare verifica che il gruppo che la classe abbia capito bene l'introduzione poi spiega via la spiegazione della tecnica che consiste nel modificare sistematicamente la questione in oggetto cambiando nel punto di vista attraverso diverse chiavi di lettura e allora vengono fuori tali domande che cosa succederebbe all'oggetto esaminato se lo volessimo ingrandire se lo volessimo deformare cambiarne la geometria la forma il prezzo il valore e e ancora che cosa accadrebbe al contrario se volessimo diminuirne il volume il peso il prezzo la durata la quantità il valore e ancora che cosa succederebbe questa volta se volessimo migliorare la prestazione quindi la la performance il materiale il design il packaging il processo produttivo e ancora che cosa accadrebbe se all'oggetto di studio volessimo associare un altro oggetto o volessimo associarne una funzione diversa e ancora e cosa succederebbe se volessimo utilizzare un processo tecnologico di produzione diverso sostituendone quindi che preveda la sostituzione di componenti strutture macchine logistica infine tutte le idee prodotte vengono annotate in una lista al termine l'insegnante legge alla classe al gruppo di classe le idee simili o identiche pressoché identiche quindi le ripetizioni vengono eliminate oppure vengono sinergicamente accorpate infine si passa alla valutazione delle idee bene con questo è tutto spero di avervi dato una panoramica a 360 gradi del concassage partendo dal concetto di creatività per arrivare agli studi della creatività fino a darvi una panoramica relativa ai ricercatori che hanno studiato in merito al pensiero divergente alle alternative alla creazione alla crescita all'originalità e poi siamo arrivati alla vera e propria spiegazione di questa metodologia didattica che stimola la creatività bene come il mio solito ringrazio tutti siete tanti siete un gruppo elitario devo dire quelli che mi seguono sono persone colte persone che quando siamo in diretta gli intervistati si meravigliano e dicono no Francesco ma veramente chi ti segue fa parte di un elite sociale di un elite culturale sì io dico certo è vero sono proprio coloro che mi seguono e che portano continui suggerimenti idee commenti che contribuiscono al miglioramento sistematico di queste video lezioni video corso chiamatele come volete approfondimenti culturali qui avrete la possibilità di iscrivervi al canale solo il 30% l'ha fatto e se vi iscrivesse tutti arriveremo oltre 30-40 mila persone che nella scuola nella cultura possono interagire tra di loro qui ci sarà la possibilità di mettere mi piace se il video vi è piaciuto e ancora un po' più sotto tutti avrete la possibilità di scrivere commenti e di riceverne risposta e qui ancora importante avrete la possibilità di condividere il video con chiunque volete io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata un saluto a tutti da Francesco Samani